Auguri! Avete mai pensato a questa usanza, a dire auguri, ricevere gli auguri? Questo è un periodo in cui riceviamo tanti auguri, no? Auguri di Buon Natale, auguri di un buon anno, buon inizio di anno. Stamattina non voglio parlare del perché di questa usanza. Immagino che sia nata, almeno sia nata, adesso non so, ogni volta che si fanno gli auguri, ma almeno all'inizio c'era di base un desiderio per il bene di quella persona. Quindi per questo tu ti stai augurando le cose migliori per la persona che stai salutando, come ho fatto adesso io, molto gentilmente a tutti voi augurando, non so cosa, ho fatto auguri, no? Quindi in un senso diciamo, io spero che tutto vada per il meglio, no? Quando dici così a una persona, ma se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che tutti questi auguri, questi scambi di auguri, hanno zero impatto sull'andamento dell'anno che abbiamo appena cominciato. E con questo, questo non sarà una predica contro il fare gli auguri, perché ho iniziato facendo gli auguri. Non è questo lo scopo del messaggio di questo momento. Ma vogliamo tenere bene in mente questo fatto, che tutti questi auguri non influiscono sull'andamento dell'anno. Pensate a quanti auguri sono stati fatti ieri. Ieri sono andato a letto e ho messo il telefono in modalità aereo, perché non volevo essere svegliato da tutti i messaggi che arrivavano, perché c'è questa usanza. Anche Leo mi ha mandato grazie, non ti ho ancora risposto. Mandiamo gli auguri, no? Quanti auguri sono stati fatti e mandati solo nelle ultime ore? Eppure, di quest'anno appena cominciato, io so soltanto che è già salito il costo della benzina. Quindi se è questo l'effetto degli auguri, smettiamo di fare gli auguri. E questo è simile ad un'usanza che ho visto un po' su Facebook, un po' con gli amici americani, con cui sono ancora in contatto, che quando qualcuno condivide una cosa, una situazione difficile, anche una tragedia, forse non una tragedia, una difficoltà, e o quella persona, oppure nelle risposte loro dicono se sei una persona di preghiera, prega per me, ma se non lo sei, manda dei pensieri positivi. Non so se girano anche in Italia, non li ho visti, ma mi ha sempre suonato giustamente, molto strano. Qual è il beneficio? Se io ti mando dei pensieri positivi, come si mandano i pensieri positivi? Ma che effetto avranno? Niente. È un po' molto simile, direi, al motto della nostra esperienza con il Covid, dei ultimi che sono quasi tre anni, un bel anniversario da dimenticare. Vi ricordate il motto del periodo Covid? Andrà tutto? È andato benissimo. Ma più che altro, quando tu dici, o nella chiave Covid, o in un'altra situazione, e spesso, lo so, che anche tra credenti, a volte non sappiamo cosa dire, e visto che per noi sembra sbagliato non dire niente, cerchiamo qualcosa e diciamo, dai che andrà meglio. Ma tu chi sei per dirlo? Tu che ne sai? Immagina gli amici di Giobbe, che dicevano a lui le cose che ha detto a lui, ma immagina che se tu eri lì, se tu fossi stato lì, dai, andrà tutto bene. Ma in che senso andrà tutto bene? Noi sappiamo, per quelli di noi che credono in Cristo, sappiamo che andrà tutto bene, ma tra qui e allora ci possono essere delle acque molto profonde per le quali noi dobbiamo passare. Quindi, pensando alla quantità di parole che vengono spese per fare gli auguri, per convincerci che andrà tutto bene, per augurarci che quest'anno sarà molto meglio dell'anno passato, pensando a tutto questo, stamattina vorrei portare i nostri pensieri non a parole di questo genere, non a degli auguri, ma ad un invito concreto che il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo fa e lui, con questo invito potente, lui invita le persone a sperimentare riposo. Riposo. Quel riposo vero, quel riposo interiore, non sta dicendo che tutto il pomeriggio oggi potrai dormire, anche se forse sarebbe un riposo che alcuni di noi possiamo desiderare. No, lui sta parlando del riposo, quello interiore, quello della nostra anima, dove spesso siamo combattuti e lui offre riposo. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie, se avete portato una Bibbia, Matteo 11, il Vangelo di Matteo, capitolo 11, e come titolo ho messo una semplice affermazione, un po' ricollegandoci anche al messaggio precedente due domeniche fa in Matteo 2, quando abbiamo visto il vero re e quelle tre disposte al vero re. Oggi vedremo che il vero riposo, il vero riposo, viene solo dal vero re. Solo il vero re. offre il vero riposo. Vedremo in questo capitolo gli ultimi tre versetti, ma per avere un po' di contesto, leggo dal versetto 25. Per non leggere tutto il Vangelo, per avere un po' di contesto, leggo soltanto dal versetto 25. In quel tempo, questo è Matteo 11, versetto 25, In quel tempo Gesù prese a dire, Io ti rendo l'ore, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il figlio, e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Arriviamo al nostro testo di stamattina. Questo invito al riposo, il riposo vero. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce, e il mio carico è leggero. Quindi, partendo da questo titolo, che il vero riposo viene solo dal vero re, stamattina vedremo, da questo testo, voglio mostrarvi tre convinzioni di chi trova il vero riposo nel vero re. Tre convinzioni, tre cose di cui, questa persona che trova il suo riposo nel vero re, tre cose che crede proprio in modo chiaro, non ci piove, proprio ha chiarissime queste cose. Il primo, la prima convinzione è questa, che Cristo è il vero figlio di Dio, ed è degno della mia adorazione. Se leggete questo Vangelo per intero, o anche in dei blocchi grandi, vedrete proprio questo tema, partendo dall'inizio, quello che abbiamo, Jonathan, già menzionato stamattina, questa profezia, già nel primo capitolo, poi il secondo capitolo, che abbiamo visto recentemente, poi di nuovo stamattina, Fred ha letto. Poi Gesù, nel suo battesimo, viene dichiarato il figlio di Dio. Poi lui inizia il suo ministero, viene tentato, proprio per il fatto che è il figlio di Dio. Viene tentato da Satana. Mi fa sorridere, quando lo leggo, dice che dopo aver digiunato per 40 giorni, ha iniziato ad avere un po' di fame, o avere fame. Io, dopo 40 minuti, dopo 40 giorni, in questo periodo di tentazione dura, proprio perché era il figlio di Dio, poi inizia il suo ministero, miracoli, guarigioni, calma una tempesta, cose che solo lui poteva fare. Doveva essere chiarissimo per le persone lì intorno. Infatti, mi stupisco di quanto fossero ciechi, ma non in modo, non voglio pensare in modo arrogante, ma quanto fossero ciechi, le guide religiose di quel tempo. Perché la voce si spargeva, le cose si venivano a sapere, le cose grandi che Gesù faceva. era chiarissimo, era più che chiaro chi fosse. Quindi arriviamo a questo brano dove Gesù, con la sua autorità, e questo è proprio il punto di Matteo, lui mostra che Gesù ha l'autorità, lui ha il potere, ha l'autorità, e poi arriva alla fine del suo Vangelo, dove in base a questa autorità, lui ci dà la nostra missione, di andare a fare discepoli, di tutte le nazioni. E questo ce lo dice, non ce lo dice come suggerimento per la nostra Chiesa, ce lo dice in base alla sua autorità. La seconda persona della Trinità ci dice, ecco perché vi ho salvato, ecco il vostro lavoro, il vostro compito. Quindi un tema, proprio un filo conduttore in questo Vangelo, è l'autorità di Cristo. E lui in base alla sua autorità, in questo brano, ci dice stamattina, lo sentiamo, e ce lo dice nuovamente, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Una questione, una domanda importante, una cosa da capire, è a chi si sta rivolgendo. Ci sono queste parole che descrivono persone, lui dice, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ma di cosa sta parlando? Sta parlando semplicemente della vita di tutti i giorni in un mondo dove sentiamo l'effetto del peccato, sapete che questo mondo non funziona come dovrebbe, giusto? Non sto scioccando nessuno, no? Ed è per questo che esistono i meccanici, perché le macchine non vanno, cose non funzionano, chi è proprietario di una casa si rende conto che ah, hai appena acquistato un nuovo hobby, tu sei diventato un manutentore di una casa. Ma non solo le cose non funzionano, ma anche i nostri rapporti non funzionano come dovrebbero, perché viviamo in un mondo che vive sotto l'effetto del peccato, dalla caduta in poi. Quindi Gesù sta parlando semplicemente di questo, sta dicendo semplicemente voi che siete affaticati dalla vita, sicuramente questo può rientrare in quello che lui sta dicendo, ma io credo che sia molto più grande quello che lui sta dicendo. In base al brano, al contesto immediato che abbiamo letto adesso partendo dal versetto 25, lui sta parlando di venire a lui e venire a lui in senso salvifico. Sta parlando della salvezza, della sua opera di salvezza, di salvare le persone. Sta parlando del suo ruolo di far conoscere il Padre e che lui darà a queste persone riposo. e vedremo queste tre convinzioni e io credo che ci siano tre, ma non voglio dividere troppo, credo che siano tutte collegate fra di loro, ma senza dubbio la prima è proprio riconoscere in fede, per fede, che Cristo è il figlio di Dio. Cristo è quello che lui diceva di essere, Cristo è quello che dicevano le profezie, che lui sarebbe stato. Lui è il figlio di Dio, lui è la seconda persona della Trinità, lui è quello che è venuto per salvare il suo popolo dai loro peccati. Lui è quello che è venuto per pascere il suo popolo. Quindi, prima di tutto, fede in Cristo. Crediamo in quello che lui dice, lo prendiamo in parola. Quindi, a chi si sta rivolgendo? Voi tutti che siete affaticati e oppressi. Non è una bella descrizione, no? Credo da piccoli, non abbiamo aspirato di essere da grandi, io vorrei essere affaticato e oppresso. eppure è la descrizione. Sono persone, sono sfinite, sono esauste, pensando a sinonimi di queste parole, stanchi, sono oppressi, sovraccarichi. Da cosa? Di nuovo, stiamo parlando solo della, diciamo, la difficoltà della vita di tutti i giorni? Io credo, in base a quello che ho visto anche nel mio studio, penso che la cosa sia più profonda, si manifesta nella nostra vita. Ma io credo che lui stia parlando della colpa, dei sensi di colpa che noi portiamo. Lui offre riposo, riposo nella nostra anima. cos'è che toglie la tranquillità dalla nostra anima? E l'essere colpevole, sentirsi colpevole. Noi spesso usiamo questa frase, sensi di colpa, ci torneremo. Ma io credo che Cristo stia offrendo riposo a chi si sente affaticato e oppresso dai suoi sensi di colpa. e si rende conto che non c'è niente che lui o lei può fare per cambiare la situazione. Io sono colpevole e non c'è niente che io possa fare per cambiare questa situazione. In altre parole, disperazione. Sono colpevole, non ho speranze. E in più, in questo contesto, c'erano anche i pesi che le guide religiose aggiungevano a queste persone. ieri stavo cercando di capire meglio i farisei, i sarucei, e per me c'è tanto da capire lì, poi anche l'aspetto che nel tempo, quindi parliamo di diversi decenni di storia, nel tempo ci sono stati anche dei cambiamenti, ma quello che possiamo dire, possiamo pensare a come Gesù parla di loro, sempre in Matteo, vi menziono questo brano, leggo soltanto uno o due versetti, ma in Matteo 23, Gesù parlando alla folla e ai suoi discepoli, parlando dei scribi, dei farisei, dice che loro siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. infatti, questo è il punto chiave, legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Quindi pensiamo al peso dei sensi di colpa, l'essere colpevole e in più quelli che ti dovevano pascere anziché aiutarti aggiungono altri pesi e queste sono le persone a cui Gesù si sta rivolgendo, sta dicendo venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io, io vi darò riposo. E a questo punto prima di procedere voglio chiedere a te tu come stai stamattina? Tu senti il peso della tua colpa? Di nuovo questa frase i sensi di colpa senti i sensi di colpa hai fatto del tutto per metterli a tacere ma non ci riesci e senti stamattina il tuo essere colpevole? Forse hai provato con delle distrazioni con il divertimento tanti amici tanto volume musica in modo che non devi mai essere da solo con i tuoi pensieri magari ti sei impegnato a servire forse per averlo come distrazione forse anche per sentire poi gli altri parlare bene di te in modo che non devi più ascoltare i sensi di colpa ma puoi ascoltare quello che dicono tutti gli altri ma quanto è bravo quanto sei bravo vedi non posso non posso essere così colpevole guarda quello che dicono tutti gli altri di me vuoi sapere qualcosa? non c'è niente che tu puoi fare umanamente parlando per togliere non solo i sensi di colpa ma il tuo essere colpevole non c'è niente che tu puoi fare per toglierti questa colpa e di nuovo noi usiamo questa frase sensi di colpa e voglio specificare non mi fermino molto su questo ma la colpa in sé è una cosa legale o sei colpevole o non sei colpevole è un termine legale noi spesso parliamo dei sensi di colpa spesso i sensi di colpa sono proprio perché siamo colpevoli ci possono essere anche dei sensi di colpa perché la nostra coscienza deve essere dobbiamo cambiare il modo in cui noi pensiamo a volte possiamo sentirci colpevoli quando non lo siamo veramente e lì dobbiamo crescere dobbiamo sottomettere la nostra coscienza la parola di Dio ma immagino che la maggior parte di quello che noi intendiamo quando diciamo sensi di colpa ci sentiamo colpevoli perché siamo colpevoli e non c'è niente che noi possiamo fare per cambiarlo forse sei colpevole per alcune tue azioni alcune tue parole e se non fosse per le parole le azioni forse almeno nelle tue motivazioni a volte riconosco che io ho agito in un certo modo le persone presenti non si sono rese conto ma io so che dentro di me io avevo delle motivazioni peccaminose delle cose che ho detto delle cose che ho fatto io sono colpevole e di nuovo non c'è niente che io posso fare umanamente parlando nelle mie risorse per togliere da me dal mio conto questa colpa e quindi anche i sensi di colpa ed è a persone proprio così che Gesù sta dicendo venite a me io vi darò riposo quindi tu come stai stamattina sei stanco sei sfinito sei esausto affaticato dal portare la tua colpa vieni a Cristo lui ti offre riposo solo lui ti può dare riposo dalle tue colpe dai tuoi sensi di colpa perché lo può fare perché è lui stesso che prende da te la tua colpevolezza le tue colpe sono state se sei un credente sono state messe su di lui quindi io stamattina nel mio modo di pensare io devo ricordarmi quello che dice questo su di me questo mi dice che tutte le mie colpe sono state prese da me e messe su di lui e quindi quando Cristo era sulla croce per quelle ore Dio Padre stava trattando lui come se lui stesso avesse guardato con i suoi occhi tutte le cose che io ho guardato che non dovevo per quelle ore Dio Padre ha trattato lui come se lui stesso e non Daniel ma Cristo come se lui avesse pensato e detto cose peccaminose di altri fratelli Dio Padre ha trattato lui come se lui stesso aveva avuto e alimentato desideri peccaminosi che io ho fatto e faccio tuttora questo è il riposo che lui offre magari tu mi dici perché ce lo stai dicendo non sai che qui siamo o quasi tutti credenti io so che molti di noi hanno professato la fede in Cristo lo so questo questo mi incoraggia ma un brano così ci è utile per vedere come Cristo parla di se stesso e come lui descrive l'essere curati da lui usa la parola riposo riposo io stamattina non voglio parlare in un modo che semini che andrà a seminare dei dubbi nella mente di chi è veramente un figlio di Dio se tu sei credente da più di qualche mese tu sai benissimo com'è vivere in un mondo come il nostro ai momenti di più crescita e poi magari stagioni di meno crescita sappiamo com'è la vita ma sappiamo anche che il figlio di Dio risponderà sempre e io pensando questo io non voglio nemmeno presumere che non ci siano persone qui presenti stamattina che in un momento hanno fatto una professione di fede in Cristo ma non hanno mai sperimentato il riposo e a te se tu rientri in questa categoria non ti voglio bastonare voglio dirti quello che Cristo ti sta dicendo stamattina vieni a me ti offro riposo e io non so se la parola che tu useresti per descrivere la vita cristiana è più peso carico sforzo oppure sarebbe riposo se tu non useresti mai la parola riposo per descrivere la tua vita cristiana io ti incoraggerei con amore con umiltà di rivalutare rivedere la tua professione confessione di fede cosa hai capito che Cristo ha fatto per te perché offre riposo offre riposo quindi la prima convinzione è proprio questo che Cristo è il vero figlio di Dio ed è degno della mia adorazione la seconda convinzione la seconda cosa di cui io che sono convinto so di certo non ci piove è che Cristo è degno di essere seguito Cristo è degno di essere seguito versetto 29 prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre poiché il mio gioco è dolce il mio carico è leggero i commentatori dicono che qui il gioco non è quello quello che probabilmente Cristo ha in mente non è quello che si usa per tenere due animali per farli camminare e lavorare insieme ma è più il gioco che viene usato per rendere più facili alcuni lavori comunque è spesso probabilmente sempre associato ad un lavoro io credo solo una volta nella mia vita ho avuto modo di usare un gioco quando io ero nella scuola superiore ero fra i gruppi giovani della nostra chiesa il nostro gruppo giovani ogni due anni e mi è andato bene perché ho avuto modo di farlo tre volte chi voleva poteva andare in Canada in un grosso parco provinciale che ho letto stamattina sono quasi 8000 chilometri quadrati di spazio e lì stai lì non senti una macchina non senti niente sei solo tu quelli che sono venuti con te i tuoi carissimi le carissime guide del gruppo giovani la tua canoa e il tuo zaino con tutte le cose che ti servono per una settimana perché infatti tu fai questo viaggio per noi durava circa cinque giorni e già raccontarlo non so se ci riuscirei a rifarlo forse per qualche anniversario e lì andremo a fare un bel viaggio di coppie ma in questo in questo parco grandissimo c'è un è possibile seguire un percorso di laghi alternati con dei sentieri infatti vedete una mappa che rende un po' l'idea sono dei laghi ovviamente sui laghi passi nella canoa di solito eravamo in due per ogni canoa poi arrivi a dei sentieri i sentieri potevano avere una distanza dai 600 metri a 1500 alcuni tra 2 e 3 chilometri credo ci sia uno molto più lungo alcuni erano ben curati quindi camminavi abbastanza facilmente altri erano abbastanza grezzi diciamo non curati bene ma arrivando al sentiero ovviamente la canoa non passa sul sentiero come passa sull'acqua stai lì non andiamo da nessuna parte infatti perché bisogna prendere la canoa e alzarla sulle spalle prima di tutto indossi lo zaino in cui hai i vestiti che tu hai scelto di portare uno di voi sta portando la vostra tenda hai anche il cibo che mangi a me una volta mi è capitato di portare la pentola che si usava tutte le sere per fare la cena e se non veniva pulita bene tutto il carbone rimaneva poi sulle mie cose e così mi è successo una volta comunque indossi lo zaino hai piedi bagnati pantaloni bagnati indossi lo zaino e poi alzi questa canoa il gioco lo vedete nell'immagine è quel pezzo di legno che proprio ha quella forma che è fatto per restare sul collo e facilitarti nel lavoro e voglio chiedere a Sara mia figlia e Anna di venire un secondo vi posso dire che questo gioco questa canoa pesava tra i 23 e i 27 chili per non parlare poi dello zaino e Sara più o meno ci siamo col peso tra loro due quindi prendi la canoa uno due tre ok ok quindi hai il peso sulle spalle avresti anche lo zaino per oggi per facilità la metto davanti quindi immagina di fare un paio di chilometri così a volte oppure anche 600 metri con la canoa ovviamente Sara ci sta anche benissimo noi spesso andiamo così lei come gioco è molto più diciamo è molto più dolce rispetto a quello della canoa quel gioco di legno non è molto dolce in più hai il peso a volte lo dividi con l'altro ma a volte a volte ci incoraggiavano a portare la canoa da soli per sperimentare tutto a quel punto dovevi far trovare dovevi trovare quell'equilibrio di peso tenendo la canoa davanti un po' in alto in modo che tu riuscivi a vedere ma questo cosa significa significa che hai le mani impegnate e non puoi scacciare le zanzare che vorrebbero molto il tuo sangue lo scopo di questo viaggio è quello di metterti in condizioni molto dure in modo che quello che sta dentro il tuo cuore venga in superficie questo è lo scopo l'ho scoperto dopo ma questo è un po' lo scopo del viaggio grazie grazie come stavo dicendo il gioco della canoa non era così dolce anzi posso dire che ho pensato cose non belle mentre portavo specialmente la volta che mi hanno incoraggiato a portarla da solo ce l'ho fatta a quel punto il tuo compagno acquista un ruolo di incoraggiarti dai che ce la fai già siamo a metà siamo a metà siamo a tre quarti dai non mollare e tu gli chiedi scacciami questa zanzara che mi sta mangiando vivo ma il gioco della canoa è legno non è dolce e ci metti 25 27 kg a volte cercavano di ammorbidirlo mettendo una felpa intorno ma a volte scivolava anche se sudavi eccetera il gioco della canoa non era dolce ma Cristo stamattina dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi vi darò il mio gioco il mio gioco è dolce il mio carico è leggero quindi pensiamo alla vita che Gesù ci sta offrendo quello che dovrebbe essere la nostra esperienza da salvati è una vita di riposo si ci dà un gioco ma è un gioco facile dolce è un carico leggero tenete presente che Gesù sta parlando del discepolato sta parlando di seguire lui e sappiamo che seguire lui essere seguaci di Gesù a volte ci mettevi la pelle quindi ci viene da chiedere ma Gesù sta dicendo due cose diverse no sta dicendo che anche in quelle situazioni tu avrai riposo nell'anima e quello è un gioco dolce è un carico leggero anche se darai la tua vita per me avrai riposo questo è ciò che Gesù offre stamattina a noi a te se tu stamattina ti senti schiacciato dai tuoi sensi di colpa se tu stamattina hai fatto una professione di fede ti ritieni credente ma ti senti schiacciato da questo che chiamano vita cristiana non lo so sei qui ma senti addosso tutto il peso del dover vivere in un certo modo ti voglio dire carissimo carissima questo non è la vita con Gesù dovresti rivedere la tua comprensione di cose perché è quel Gesù che dice ti offro riposo ti offro un gioco dolce ti offro un carico leggero la terza convinzione proprio legata a questo che la seconda è che Cristo è degno di essere seguito la terza è seguire Cristo significa imparare da Lui e questa è l'essenza del discepolato seguire Cristo imparare da Lui ma imparare da un maestro mansueto e umile di cuore pensate agli insegnanti ai professori maestri che hanno avuto l'impatto maggiore sulla tua vita se hai avuto la benedizione di averli e non saresti penso d'accordo con me nel dire che un maestro che è infatti mansueto e umile di cuore avrà l'impatto maggiore su di te e Gesù lo è per eccellenza lui dice imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e di nuovo questa parola chiave voi troverete riposo alle anime vostre anziché sentirti appesantito schiacciato affaticato dai sensi di colpa troverete riposo direi paradiso qui sulla terra seguire Cristo significa imparare da lui vi voglio dare tre esempi veloci di quello che io credo significhi essere o significa imparare da lui siamo sempre in Matteo in Matteo in questo Vangelo c'è il sermone per eccellenza il miglior sermone mai predicato su questa terra oggi pomeriggio avrete l'opportunità di leggerlo per conto vostro ma in Matteo capitolo 5 6 e 7 quello che è conosciuto come il sermone sul monte vi voglio dare tre esempi di cosa significa imparare da Gesù Matteo 6 versetto 1 guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro altrimenti non ne avrete premio presso il padre vostro che è nei cieli poi dà l'esempio quando fai l'offerta quando fai l'elemosina non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoge nelle strade per essere onorati dagli uomini io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno e parla più volte ripete questa idea di queste persone che fanno le cose per essere visti dagli altri quindi Gesù ci libera quando impariamo da lui un primo esempio lui ci libera dalla preoccupazione di ciò che pensano gli altri su di noi e io credo che ci sia un collegamento con i sensi di colpa perché se io sento diverse volte al giorno quanto io sono bravo da tutti gli altri che mi conoscono non può che essere vero io sono bravo e sì ho fatto delle cose ma guardate quanto sono bravo guardate quanto sono apprezzato dagli altri e diventa un'ossessione una schiavitù essere schiavo di quello che pensano gli altri di me non so se è arrivato qui in Italia ma da qualche anno è nato un termine nuovo in inglese ormai ringraziamo i social anche per questo ma il termine humble brag sarebbe un modo di fare un'affermazione che sembra modesta ma è falsamente modesta tipo a te ti capita mai quando inizi la quinta ora di preghiera che ti senti un pelo distratto e così stai dicendo qualcosa ma stai dicendo qualcosa no? oppure avevo messo la sveglia per le quattro stamattina ma ho dormito fino a tardi mi sono alzato alle cinque si vede che ero stanco è un modo di parlare dove fai cerchi almeno di far pensare agli altri bene di te è un'ossessione è una schiavitù e Gesù ci libera di quello sempre lo stesso sermone Matteo 6 versetto 25 perciò vi dico non siate in ansia per la vostra vita questa è una sezione bellissima che ci spiega come lui cura perfino i fiori gli uccelli non state in ansia lui ci libera anche dalla preoccupazione per il futuro perché quando veniamo a Cristo lui ci dà il riposo non solo per quanto riguarda i nostri sensi di colpa ma non c'è più motivo per essere preoccupati non c'è non c'è motivo per essere ansiosi l'ansia per il credente per quello che riconosce Cristo l'ansia non è altro che dire non so se posso fidarmi di te non so Dio se tu faresti bene come farei io quindi ci libera dalla preoccupazione di ciò che pensano gli altri ci libera dalla preoccupazione per il futuro e questi sono solo esempi di nuovo io vi incoraggio Matteo 5.6.7 è una bomba Matteo 7 ultimo esempio ci libera dalla costante pressione di sentirci superiori di nuovo credo che questo sia legato ai sensi di colpa forse ho le mie colpe ma sono molto meglio delle persone che mi circondano Matteo 7 non giudicate affinché non siate giudicati questo è probabilmente il versetto più usato o male di tutta la Bibbia le persone vogliono far dire a questo versetto che non si non si deve mai esprimere una minima valutazione giudizio non è questo ciò che Gesù sta dicendo perché se leggiamo tutto questo piccolo brano lui sta dicendo non giudicate in modo ipocrita sta dicendo sto dicendo tu che hai quella trave nel tuo occhio tu vuoi andare a mettere il dito sulla paiuzza che è nell'occhio dell'altro stamattina stavo pensando esiste una persona più simpatica di un ipocrita pignolo che ha lui la sua trave ma vuole parlare di quella paiuzza nella vita tua proprio pieno di simpatia averci lì di più amici così quindi lui ci libera anche da questa costante pressione di sentirci superiori fratelli l'arroganza è incompatibile con la nostra fede con il Vangelo il succo del Vangelo è riconoscere che io sono colpevole e che io dovrei morire ma Cristo è morto al posto mio lo festeggeremo lo celebreremo fra qualche minuto quindi stamattina ti chiedo cosa hai fatto tu della tua colpa sei già venuto a Cristo l'hai già riconosciuto come il Signore e il Salvatore sei già stato perdonato sperimenti il riposo nella tua anima di cui Gesù parla in questo brano se la risposta è sì allora io ti incoraggio a gioire ti incoraggio a continuare ti incoraggio a sviluppare ancora l'abitudine che in quei momenti in cui sei tentato di sentirti colpevole sviluppa l'abitudine di guardare alla croce io non sono colpevole Cristo ha pagato sì dobbiamo confessare il nostro peccato ma non devo sentirmi colpevole anni e anni mesi e mesi se invece hai confessato Cristo hai dato la tua testimonianza un anno fa due anni fa cinque anni fa dieci anni fa ma stamattina riposo è l'ultima parola che useresti per descrivere la tua vita cristiana di nuovo ti voglio incoraggiare non ti sto puntando il dito non sto dicendo devi fare di più questo non è ciò che Cristo ci sta dicendo sta dicendo venite a me io vi darò riposo prendete il mio gioco imparate da me quindi ti voglio incoraggiare se questo concetto di riposo è nuovo voglio suggerire umilmente forse non conosci Cristo come pensi di conoscere Cristo e non c'è un modo migliore di iniziare un anno che venire a Cristo ricevere il suo perdono prendere il suo gioco che è dolce il suo carico che è leggero imparare da lui perché lui è mansueto e umile e troverai riposo per l'anima tua solo lui solo il vero re ti può dare il vero riposo non lo troverai da nessuna nessun'altra parte preghiamo signore grazie per il riposo che tu dai signore io ti prego che davanti a un brano così che noi ci possiamo esaminare e via dalla nostra mente ciò che pensano gli altri aiutaci a trattare con te ad essere attento a quello che tu dici su di noi e valutare veramente bene molto bene se la nostra vita potrebbe essere descritta da un riposo da un sperimentare modo crescente riposo che tu offri e se la risposta è un è un no netto signore ti prego di aiutarci ad umiliarci venire da te prendere il tuo gioco che è dolce il tuo carico che è leggero di imparare da te perché sei mansueto e umile di cuore e lì troveremo quel riposo che tanto cerchiamo nel nome di Cristo pregato Amen